A quanto tempo manca l'acqua? Manca da ieri si è ripetendo l'ottima mese l'acqua. Siamo capitati, andiamo a fabbricare i pomaroli, perché io ci ho faticato 41 anni andiamo a fabbricare i pomaroli. Tre ore... Perdite d'acqua, disagi e approvvigionamento idrico. Continuano sul territorio i disagi legati all'erogazione del servizio idrico e in tarda notte a Castel San Giorgio, precisamente a Luna, un guasto a Pozzo Traiano ha causato la chiusura e l'interruzione dell'erogazione dell'acqua. Pare fino alle ore 12. Il primo cittadino è intervenuta immediatamente in sostegno dei cittadini con un'autobotte che momentaneamente sostituirà il servizio dell'ente idrico. Acqua naturalmente non potabile, ma il sindaco Paola Lanzara chiede risposte. Di approvvigionamento idrico, purtroppo abbiamo avuto un'interruzione del servizio dell'acqua, dell'Agori, da stanotte a Luna fino a stamattina. Doveva rientrare questo guasto alle 6, ma su tutto il territorio non è rientrato. Adesso 11 mezzogiorno, ovviamente in un periodo di grande calura come questo, per i bambini, per gli anziani, crea un disagio enorme. Quindi abbiamo cercato di supplire, mettendo degli autobotti per fornire d'acqua ai cittadini, acqua non potabile, ovviamente per gli usi domestici, alle famiglie. Quindi stiamo girando con gli autobotti. È un disagio però che è ben la seconda volta che si verifica, perché anche l'altra notte, due notti fa, siamo rimasti senza acqua. Quindi ho fissato un appuntamento con i vertici dell'Agori, perché mi debbono chiarire come mai ci sono tutte queste problematiche sul territorio. Ha coinvolto più di un pozzo, più di un posto. Quindi almeno come è stato spiegato a me, poi non sono tecnico, ma me lo spiegheranno sicuramente l'Agori, perché ho chiesto ad Urgenza, ad Oras, un incontro con loro. Mancanza d'acqua e disagi anche nella città di Nocera Superiore, in particolare via Croce Mallone, via Papa Giovanni XXIII, via Indipendenza, Materdomini, via Taverne. I residenti da circa 20 giorni lamentano disagi, in particolare durante il giorno, nelle ore più calde e quando bisogna recarsi al lavoro. Le segnalazioni sono state numerose in riferimento alla mancanza d'acqua e agli abbassamenti di pressione idrica. L'ente gestore Gori, più volte sollecitato dai cittadini, è poi intervenuta, dichiarando che ci sarebbero stati in corso delle importanti perdite d'acqua e che non avendo a disposizione per ora delle squadre di operai, il tutto sarebbe poi slittato al 26 giugno prossimo. I cittadini sono sempre più esausti e vogliono risposte, soprattutto in un periodo di così grande caldo estivo. Non possiamo cucinare, né mettere lavatrice, né lavastoviglie. Siamo proprio un periodo, con il caldo che fa, siamo proprio l'acqua serve. La domenica che uno vuole uscire, magari non ti puoi lavare, non puoi uscire. Non si può cucinare, non si può lavare, ma è un problema che dura da 20 giorni. Più di 20 giorni pure. Grazie. Grazie.